che dicono noi siamo gli eredi del passato fascista. I gruppi e i partiti sovranisti che hanno percentuali a doppia cifra e poi chi? E' questa nuova entità fatta dai Novax, NoMask, Novax, che sono quelli che oggi hanno deciso che vogliono mettere in pericolo la libertà, le libertà e la salute di tutti perché per puro egoismo, per pura ignoranza, con una scelta sceglierata che è quella di dire io non mi vaccino perché, perché, e qui dico, poi ti ridò il microfono, un anno fa, un anno fa, se vi ricordate bene, noi aspettavamo il vaccino come se si aspettassimo il salvatore e ci dicevano no, attenti, perché ci vorranno almeno dieci anni perché ci sia un vaccino efficace contro Covid-19. Lo hanno fatto in nemmeno un anno. Oggi assistiamo, siamo nel pieno di un dibattito surreale, demenziale, dove c'è chi dice io non mi vaccino perché sennò mi ammalo, mi hanno detto che quel vaccino sviluppi una proteina che poi ti fa creare. Insomma, abbiamo il salvatore ma non lo vogliamo. Allora tutto questo ha a che fare, in realtà poi ho scantonato, adesso al volo ti dico, tu mi hai chiesto perché funzionano queste cose, perché hanno presa su i ragazzi, perché i gruppi di estrema destra funzionano tra gli under 18, perché Casa Pound, che poi porta acqua a partiti molto più grandi, Casa Pound si prepara a fare da stampella Fratelli d'Italia alle prossime elezioni, forza nuova chissà. Perché funziona questa proposta? Per due motivi. Il primo, perché nei momenti come quello che abbiamo descritto prima, i giovani, spaesati, senza riferimenti, che magari escono da due anni di dad, e tu ne sai qualcosa, che magari hanno letto sui libri di periodi nei quali c'erano certezze, c'erano ideali, c'erano valori, i partiti novecenteschi, le grandi battaglie per le conquiste sociali, che ancora oggi ci permettono di essere una democrazia fatta, compiuta, e non voglio citare, insomma, dall'aborto in su e in giù, e dicono ma oggi che c'è? Oggi mi devo difendere dal nemico. E qual è il nemico? Il virus non soltanto quello. Il nemico per questi gruppi, per queste organizzazioni, corrisponde sempre e soltanto ad una cosa sola, l'immigrato. Quello che arriva da fuori, quello che ci invade, quello che ci porta via il lavoro, le donne, quello che occupa le nostre case, quello che dobbiamo cacciare fuori da un alloggio comunale, dove vive legittimamente con la sua famiglia, perché quell'alloggio aspetta un italiano. Perché? Perché prima, 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 gli italiani. Queste offerte, cioè l'identità forte, nel giovane fa presa. Fa presa, e soprattutto fa presa un'altra cosa, l'idea che tu all'interno di quel circuito, prendiamo Casa Pound, trovi tutto, trovi la politica, trovi lo sport. io nel mio ultimo lavoro, l'educazione di un fascista, lo cito inelegantemente, perché ci aiuta a capire come anche lo sport viene deformato da queste organizzazioni, da questi gruppi, perché lo sport viene visto come, non come una pratica sana, non come una disciplina sportiva dove si forma l'atleta, il campione, viene visto come una palestra dove tu diventi un militante politico, un soldato, un soldato che è chiamato a fare che cosa? È chiamato a difendere i confini, a difendere la sua terra, il suo quartiere, la sua città, la sua nazione, il soldato politico, che deve essere preparato anche fisicamente, deve essere addestrato. i fratelli bianchi, i fratelli bianchi, cioè quelli, gli assassini di Willy, a Colleferro, io non so se votassero, per chi votassero non mi interessa, ma quel pestaggio è stato un pestaggio basato su una logica fascista della società, dove la prevaricazione anche fisica, la violenza diventa il cemento che tiene assieme, loro si ritrovavano per picchiare, venivano chiamati per picchiare, per regolare dei conti. Allora, nelle palestre oggi si forma il soldato politico, che deve essere addestrato, pronto fisicamente, perché cosa? Perché quando ci sarà bisogno, quando assisteremo alla cosiddetta resistenza etnica, cioè la resistenza contro il migrante che arriva, ci dovranno essere dei soldati politici pronti a fare fronte, a fare baluardo, a fare trincea, con la propria violenza. Quindi trovi lo sport deformato, trovi la politica, trovi lo stadio, gli stadi sono dei formidabili, adesso sono chiusi, ma riapriranno, avete visto lo striscione che gli ultra della Lazio hanno dedicato all'ultimo acquisto, chissà se resterà, abbiamo già visto in passato, Club farsi condizionare da ultra neofascisti, chissà se resterà alla Lazio questo terzino albanese che è stato accolto, siccome ha cantato Bella Ciao, credendo fosse, come è, un inno di gioia, di liberazione, forse non ci aveva capito tutto, nemmeno lui, perché in realtà la cantava perché un DJ la riproposti in una nuova chiave, ma non è importante, hanno i fascisti, gli ultra fascisti della Lazio hanno accolto questo giocatore con lo striscione, sei un verme, la Lazio è fascista. Questo accade a Roma a luglio del 2021, non nel 1922, non nel 38, nel 2021. Quindi lo stadio, quindi la palestra, quindi la musica, cioè i concerti, la militanza politica, sono vasi comunicanti, le sezioni politiche di Forza Nuova di Casa Pound comunicano con la curva fascista della Lazio o della Roma o del Verona. I militanti sono anche gli ultra che la domenica vanno a far casino, vanno a scrivere striscioni contro il giocatore di colore o cercano lo scontro contro la polizia, questa logica antistatuale per cui ci deve essere un nemico che non è soltanto l'immigrato ma è anche lo Stato, quello che tiene in piedi la democrazia. Ecco, in questo circuito il giovane trova attrattiva, trova qualcosa che calamita la sua attenzione. Ci sarebbe poi da fare un discorso, ma ci porterebbe molto lontano, ovviamente, mi taccio, sul perché funziona questa proposta, cioè la proposta identitaria, la proposta aggregativa, la proposta comunitaria, sono gli elementi su cui fanno presa queste formazioni e non funzionano o funzionano meno altri tipi di aggregazione. Non è il caso di Nembro, dove in realtà l'aggregazione giovanile funziona molto bene, lo ripeto, ma in molte altre città ci sono dei vuoti lasciati, colpevolmente, e quando tu lasci i vuoti c'è sempre qualcuno che arriva per occuparli, per appaltarli, e a volte quei vuoti diventano anche dei terreni di semina, di coltura, per dei fenomeni che poi possono rivelarsi e molto pericolosi. Tra l'altro tu hai intervistato tante persone della rete che tenevano campi in cui si imparava a lottare, si seguivano certe ideologie, e hai anche sempre sottolineato l'importanza oltre al luogo e all'aggregazione anche del simbolo che è una cosa che torna spesso e al riguardo mi chiedevo proprio al di là del simbolo che è sicuramente un punto interessante trovare una bandiera sotto cui riunirsi quanto ha influito e quanto hanno influito i nuovi metodi di comunicazione su questa diciamo questa questa rinascita degli estremismi e penso soprattutto anche ai social che permettono di farsi trovare da persone anche molto distanti di non rimanere isolati e quanto è importante quindi questo tipo di comunicazione abbiamo detto anche che i totalitarismi e gli estremismi spesso parlano per slogan e i social sono un mezzo sicuramente molto adatto per far passare gli slogan e oltre a quello quanto è importante una buona informazione nel riguardo sono le nuove forme di comunicazione cioè i social per semplificare sono essenziali nella narrazione di queste formazioni questi gruppi sono un acceleratore sono un formidabile volano che permette alla propaganda di questi gruppi non soltanto quelli diciamo dichiaratamente di estrema destra anche altri noi abbiamo imparato a conoscere in questi anni le macchine comunicative di alcuni leader di alcuni leader politici che hanno costruito il loro consenso grazie ai social e grazie a bestie e bestioline cioè quei meccanismi tali per cui tu sei in grado di generare magari nell'arco di una notte dalla notte all'alba all'alba un numero mostruoso di troll che tu usi non soltanto per fare il tifo per te ma li usi anche per scatenarli contro i tuoi avversari politici ai giornalisti scomodi a quelli che magari fanno inchieste o ogni giorno denunciano la propaganda violenta spesso gli slogan truci di quelle formazioni politiche allora tu scateni scateni l'inferno contro gli oppositori noi in questi giorni abbiamo avuto notizia di un fatto che da cronista ritengo inquietante il sistema di spionaggio Pegasus infiltrato in qualcosa come 50.000 utenze telefoniche in decine di stati tra cui anche l'Ungheria non a caso di Orban oggi si è scoperto che anche l'ex premier romano Prodi era tra gli intercettati e così come il presidente francese Emmanuel Macron le tecnologie sono la nostra delizia la nostra croce le tecnologie sono quelle che ci hanno messo in connessione tra di noi e che ci permettono di parlare con amici parenti fidanzati mogli amanti amici dall'altra parte del mondo ma sono anche quelle che permettono alle persone di minacciare impunemente contando spesso sull'effetto sull'effetto dell'anonimato sul fatto che la fonte l'origine della minaccia non è tracciabile perché non è fisica perché è una minaccia è un'entità virtuale che esiste ma ma che è molto più difficile da individuare rispetto alla persona fisica una volta per minacciare qualcuno dovevi andare da lui sotto casa sua fuori dal suo posto di lavoro oggi tu sei in grado di minacciare bastonare una persona usando schiacciando un tasto del tuo telefonino con twitter con facebook con instagram non parliamo del dark del dark web dove alberga di tutto eccetera ma questo ha fatto ovviamente da da spinta da propulsore a tutte queste questo linguaggio d'odio di cui abbiamo parlato prima che anche soprattutto grazie ai social riesce oggi a raggiungere una platea una platea di destinatari di interlocutori a volte consapevoli a volte no sconfinata e anche qui è cambiato tutto perché tu prima per parlare per rivolgere delle persone insomma vado in piazza vado in piazza della libertà mi metto a delirare inizio a gridare vive il duce e però mi vedono magari dieci persone sono tutte sulle panchine mi vede Sebastiano che passa con gli amici si prepara ad andare a Mantua adesso io schiaccio un pulsante e riesco a raggiungere una platea sconfinata di persone in tutto il mondo purtroppo da una parte per fortuna per chi ne fa buon uso allora questo è un problema all'interno del problema lo vivo in prima persona ovviamente perché oggi chi decide di prenderti di mira lo fa essenzialmente prevalentemente utilizzando queste modalità e credo che sia uno strumento estremamente pericoloso da maneggiare con cura ma questo è molto banale dirlo credo che l'uso che ne fanno queste formazioni sia un uso scientifico metodico cioè i gruppi di estrema destra o quel nazional populismo di cui parlavamo prima hanno costruito il loro consenso sulle nuove tecnologie non parlo soltanto di fascisti neofascisti neonazisti attenzione che sono in realtà voi dite ma negli ultimi mesi abbiamo raccontato per fortuna dico di diverse operazioni della magistratura in Italia che hanno stanato dei gruppi delle formazioni neofasciste o neonaziste in diverse parti del paese qualcuno mi ha chiesto ma è un caso oppure c'è come dire un'azione più energica più robusta da parte della magistratura da parte delle forze dell'ordine rispetto a questi fenomeni che io trovo siano ancora troppo poco considerati in Italia continuiamo a minimizzare continuiamo a banalizzare continuiamo a ritenerli dei fenomeni spesso folcloristici quando di folcloristico non hanno esattamente nulla anzi continuiamo a pensare che siano dei non problemi essenzialmente ma dice ma no ma sono quattro ragazzotti esuberanti ma si minacciano giusto quelli che se ne occupano ma poi no no negli altri paesi c'è una tolleranza molto ma molto ma molto minore rispetto a questi fenomeni di estrema destra a formazioni nostalgiche a slogan razzisti si interviene subito in modo più efficace in Italia continuiamo a derubricarli a derubricarli a dei non problemi o dei problemi residuali e questo è anche un problema che interroga la magistratura che interroga le forze dell'ordine che interroga il legislatore anche ok e però l'idea che oggi tu possa far del male a qualcuno semplicemente utilizzando utilizzando semplicemente questa roba qua questo aggeggio qua è un'idea terrificante perché accorcia le distanze ma in qualche modo ti permette anche di entrare in connessione con un mondo che tu diversamente non avresti mai potuto raggiungere ecco perché mi chiedevano ma c'è un'internazionale nera c'è in Italia una rete che tiene assieme tutti questi gruppi neofascisti che si ritrovano per festeggiare il compleanno o il genetriaco appunto di Mussolini o il compleanno di Adolf Hitler c'è c'è ci sono dei collegamenti non solo nazionali sono dei collegamenti transnazionali c'è una rete nera che tiene assieme formazioni che da Alba Dorata in Grecia ai tedeschi di Pegida o dell'MPD o gli Alternative for Deutschland a Casa Pound a Forza Nuova a Rassemblement Nazionale in Francia insomma potrei fare un elenco sterminato che si tengono che si scambiano inviti che condividono politiche soprattutto ovviamente contro i migranti che occupano gli stessi spazi dove fermenta l'islamofobia l'antisemitismo la lotta contro l'Europa l'autodeterminazione la chiusura i confini i muri i recinti cose che abbiamo visto no cose che ci siamo inventati che allora questi collegamenti con le nuove tecnologie diventano cosa fatta e diventano immediati e richiamano in qualche modo quello che noi abbiamo visto adesso toccando tutti i ferri che non abbiamo sono silenti ma ci hanno abituato che quando sembrano inabissarsi poi a volte tornano e ci richiamano in qualche modo le modalità con cui il terrorismo internazionale di matrice islamista io i miei 25 anni e passo ormai da cronista ne ho seguiti molti di questi attentati internazionali di collegamenti tra gli attentatori di Parigi Bruxelles Copenhagen eccetera le modalità sono simili per cui tu ti riconosci non perché hai ti guardi in faccia oggi anche sì ma ti riconosci in uno stesso slogan in una stessa campagna d'odio ti riconosci nel fatto che hai lo stesso nemico e così come io segui un attentato terroristico in Francia in Normandia a Rouen dove i due attentatori dell'Isis i cosiddetti lupi solitari uno è arrivato dal nord della Francia e l'altro dal sud si erano ritrovati lì senza conoscersi e si erano trovati lì per sgozzare un prete all'interno della cattedrale di Rouen ora non voglio azzardare paragoni lunari ma in qualche modo le tecnologie aiutano a fare quella roba lì cioè costruiscono un tessuto che diversamente non sarebbe possibile costruire in questo i gruppi di estrema destra sono bravissimi sono molto abili nell'occupare a volte in modo quasi militare la piazza digitale e però attenzione e chiudo diciamo di questa cosa non fossilizziamoci solo e sempre sul mondo del web cioè esiste oggi è di fatto la buona parte della nostra vita scorre lì sopra ma non c'è solo quello per paradosso nei gruppi nelle formazioni estrema destra che vivono di simboli vivono di suggestioni vivono faccio degli esempi per capirci il ragazzino non è che entra in casa pound perché soltanto perché l'amico gli dice dai vieni c'è un concerto carino andiamo degli Z Zero Alpha che è la band di casa pound ci entrano perché magari gli piace la felpa bordeaux con la scritta calci e pugni o accademia della sassaiola tu dici ma che te ne frega beh ma è fa brutto come dicono a Milano fa brutto fa figo fa duro i simboli le suggestioni la potenza delle suggestioni l'educazione di un fascista che è il mio ultimo lavoro racconta proprio questo cioè come si oggi si diventi fascisti non perché è studiato non perché sai che cosa è stata la crisi industriale del 29 o la marcia su Roma che un partito che i sondaggi danno al primo al secondo posto commemora con delle cene celebrative Fratelli d'Italia ad Ascoli Piceno hanno commemorato la marcia su Roma cioè di fatto l'inizio del fascismo Fratelli d'Italia è un partito che si candida a governare il nostro paese e due anni fa io tirai fuori questa storia su Repubblica ad Ascoli Piceno commemorarono la marcia su Roma c'era il futuro presidente della regione Marche c'era il sindaco di Ascoli Piceno c'erano i maggiorenti i ras locali del partito commemoravano la marcia su Roma con un con un menu dedicato con la foto dell'altare della patria con il simbolo del partito e questo era Fratelli d'Italia non era Forza Nuova non era Casa Pound allora i simboli la potenza dei simboli sui social viaggiano che è una meraviglia ma dicevo non pensiamo che tutto è soltanto virtuale digitale c'è per il paradosso oggi un tentativo da parte di questi gruppi di tornare alla piazza fisica e li abbiamo visti li abbiamo visti anche nelle proteste contro le chiusure i lockdown le politiche di contenimento dei contagi del governo Conte li abbiamo visti in piazza a far che cosa? a lanciare bombe carta contro la polizia e i carabinieri a rovesciare i cassonetti a vandalizzare a cercare lo scontro come facevano i black bloc qualche anno fa abbiamo visto parate nei cimiteri con i saluti romani mille braccia tese nel saluto romano e poi magari qualche procura ha detto no ma al cimitero si può perché? perché è una commemorazione funebre e no e no perché sennò passa il messaggio che se si può se si può lo faccio anch'io o faccio di peggio allora il ritorno anche alla piazza fisica che da anni era stata dimenticata dei fascisti e qui uso le parole di Liliana Segre consentitemelo io ho avuto l'onore il privilegio la fortuna di avere la senatrice a vita con me alla presentazione di alcuni miei lavori e lei dice una cosa molto condivisibile molto chiara dice non è che i fascisti sono rispuntati oggi giusto appunto me lo chiede i fascisti in Italia ci sono sempre stati forse in qualche modo l'italiano non ha mai smesso di pensare un po' in modo fascista per tante cose per la fascinazione per l'uomo forte al potere la guida suprema noi abbiamo avuto sembra passata un'era glaciale in realtà era poco tempo fa un ministro dell'interno che ha chiesto pieni poteri agli italiani cosa che è già stata fatta in passato e sappiamo che non finì benissimo no? allora Liliana Segre dice i fascisti ci sono sempre stati è cambiata solo una cosa che prima avevano vergogna a uscire adesso escono è caduta la vergogna è caduto il senso del pudore e quindi escono allo scoperto senza problemi c'è chi gli ha detto potete tornare non siete più brutti sporchi e cattivi c'è spazio anche per voi nel dibattito pubblico nell'agenda politica nelle piazze tornate tornate pure e i fascisti hanno approfittato devo dire dal loro punto di vista hanno fatto una cosa molto logica e conseguente hanno visto che il terreno era fertile che c'era la possibilità di tornare e che il momento sociale politico economico congiunturale per dire come per usare diciamo i termini di quelli che parlano bene era favorevole era propizio e sono tornati i fascisti con i loro simboli con le loro suggestioni con la loro propaganda la cui base ha una matrice sempre profondamente violenta questo va detto di ieri e di oggi i fascisti nostalgici del fezze della camicia nera che oggi sono residuali e i nuovi fascisti che non sono più tanto in nero ma sono più in grigio il neofascismo oggi è più grigio che nero perché c'è quella zona che abbraccia una platea più ampia dove tu si fai il saluto romano ma insomma evitiamolo se è meglio al massimo facciamo il saluto suprematista di Braivi che con l'indice il medio che magari non ci danno l'apologia che poi ormai è diventato quasi un optional purtroppo il fascismo in grigio è il vero tema di oggi ed è quello che va stanato individuato e portato a gallo allora tengo la provocazione dei fascisti in piazza fisica perché è interessante ed è dove volevo arrivare e tengo anche due nomi che hai fatto prima che sono Alba Dorata e l'alternativa l'alternativa tedesca diciamo quindi l'estrema destra tedesca allora ad oggi abbiamo Alba Dorata che è chiusa o comunque sia limitata in Grecia tecnicamente non esiste più è tornata ad essere quello che era prima quindi un movimento e l'alternativa sotto sotto controllo sotto stretto controllo da parte del governo tedesco perché è considerata una minaccia alla democrazia qui le cose vanno un po' diversamente perché è chiaro che non ti chiederò se ci sono dei rischi per la democrazia nel far fare queste manifestazioni di estrema destra perché è ovvio che ci siano il punto è che ci sono e qui si dovrebbe interrogare la politica in un certo senso perché è vero che esiste un fascismo è vero che esiste un estremismo di destra che sta tornando è altrettanto vero che nessuno sembra si sta impegnando seriamente per contrastarlo e sembra che il problema venga quasi ignorato che passi in secondo piano e questa dovrebbe essere competenza della politica e in realtà in questi anni non ci sono stati politici competenti in grado di limitare questo fenomeno il problema lì dove sta abbiamo capito che ci sono dei partiti che si appoggiano e è perfettamente logico che loro non si oppongano ma ci sono altri partiti che non dovrebbero appoggiarsi e che invece dovrebbero cercare di limitare il fenomeno perché è anche nei loro interessi oltre ad essere giusto in maniera a livello proprio morale a livello proprio legale costituzionale eccetera eccetera è pure nei loro interessi posso risponderti in modo brutale brutale è ammesso anche tra Sarpini si può ci sono dei partiti che si appoggiano e che strizzano l'occhio e ne abbiamo parlato e che vanno a braccetto con questi gruppi e che ci vanno a cena e che indossano i loro capi di abbigliamento allo stadio pubblicano libri autobiografici con le loro case editrici e ci sono partiti che invece dormono un po' che si sono un po' appisolati in questi anni e qui mi riferisco chi mi conosce chi segue il mio lavoro chi ha scusate chi ha letto i miei libri sa che non ho fatto e non faccio sconti a nessuno mi occupo ovviamente in modo prevalente di denunciare e smascherare i gruppi neofascisti e neonazisti e che è sostanzialmente il mio capo di imputazione ma non faccio sconti nemmeno a quelli che dall'altra parte dovrebbero rappresentare una diga un baluardo rispetto a questi fenomeni e che dovrebbero essere in prima linea nel contrastarli perché lo devono fare i cronisti questo lavoro qua non parliamo non parliamo di me ma perché in un paese si lascia che siano degli operatori dell'informazione a scoprire che esiste un'organizzazione neonazista penso ai 12 raggi di Varese che dal 2012 quasi impunemente fa propaganda nazionalsocialista non sono manco fascisti sono neonazisti dichiarati festeggiano ogni anno il compleanno di Hitler con un concerto dicono che sono pronti a imbracciare le armi che i loro nemici sono la magistratura e i giornalisti rompi palle dove è lo Stato dove sono i partiti dove è la sinistra prima delle elezioni dice la destra sovranista la sinistra sa fare soltanto una cosa parlare agitare lo spettro del fascismo io sommessamente aggiungo che se la sinistra lo facesse in modo più efficace magari non soltanto sotto elezioni ma molto prima e non a slogan ma con delle proposte con delle denunce con dei convegni con dei momenti di scambio di informazioni su questi temi io mi confronto quotidianamente settimanalmente con colleghi che come me fanno questo mestiere in altri paesi d'Europa ci scambiamo informazioni condividiamo storie nomi perché la politica non lo fa in Italia cioè perché questo ruolo questa funzione di argine che non posso certo fare assolvere io per evidenti motivi non soltanto di mezzi ma insomma perché non lo fa la politica dov'è perché è assente la politica perché si accorge che esistono i fascisti soltanto quando magari a dicembre il 2017 a Como vi ricordate cosa successe 15 neonazisti del Veneto fronte Schined entrano in una sala dove dei volontari che si battono per aiutare i migranti in transito a Como stavano facendo una riunione entrano li circondano e li obbligano li obbligano ad ascoltare la lettura di un volantino farneticante contro i migranti contro gli amici dei migranti contro la sinistra eccetera è iniziato il processo pochi giorni fa contro questi militanti del Veneto fronte Schined una delle più antiche formazioni neonaziste che operano in Italia e così da sinistra si accorge che i fascisti esistono io credo che lo dico sempre che il più grande favore che noi possiamo fare ai fascisti è dire che non esistono pensateci se tu rimuovi un problema se dici che questo problema non c'è non esiste aiuti aiuti quel fenomeno a camminare a riprodursi a clonarsi a irrobustirsi a fare proseliti perché? perché tanto i fascisti non esistono mi viene da ridere che prima della presentazione un signore una persona mi ha avvicinato si è presentato ma lei è sottoscorta lei dico purtroppo sì dice ma perché per mafia dico no non per mafia per minacce il mondo dell'estrema destra ah ma perché ci sono i fascisti ancora pare di sì dico pare di sì al che mi mi dicono ma non so qui sono sono quattro giovanotti così tendenzialmente sono anche giovani fascisti sono vecchi ma anche giovani e ad ogni modo non è che i giovani sono inoffensivi e gli anziani invece sono nerboruti e palestrati tendenzialmente non è non è non è proprio così di solito ma questo per dire lo dico ovviamente con simpatia verso questa questa persona che in Italia c'è ancora una una scarsissima conoscenza di questi fenomeni e questo è un problema perché c'è scarsa conoscenza nell'opinione pubblica e uno poi quando succede l'episodio non so Luca Traini a macerata ce lo ricordiamo tutti Luca Traini era iscritto alla Lega candidato per la Lega ma era anche un militante di forza nuova quindi era il perfetto come dire la perfetta rappresentazione del fascio leghista mi hanno attribuito non so se ha torto a favore o a ragione questa locuzione del fascio leghismo che sostanzialmente è il passaggio di un partito la Lega che un tempo era tutto forché nazionalista era un partito secessionista federalista separatista volevano staccarsi da Roma ve li ricordate poi la Lega la Lega diventa il suo esatto contrario un po' come la metamorfosi di Kafka da uomo diventa insetto viceversa e diventa un partito che non difende più i confini della padania come la chiamavano un tempo le istanze di questa regione fantasiosa inesistente coniata tra un'ampolla e una grappa alle pendici del 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 monviso ma iniziano a difendere i confini nazionali si trasformano in un partito nazionalista che non ce l'ha più con i terroni ce l'ha con gli immigrati con i musulmani con gli islamici allora Luca Traini il fascio leghista Luca Traini tenta una strage a macerata spara nel mucchio per colpire a random degli immigrati e Luca Traini era un fascista e voleva vendicare la violenza contro una donna italiana che manco conosceva e queste cose succedono quando succedono uno dice beh ma allora ci sono i fascisti ma allora non è che se li inventa Berizzi o Lampi o la rassegna migliore di così esistono e i fascisti esistono esistono e secondo me in questi anni non tutti ne hanno avuto e continuano a averne contezza non soltanto l'uomo della strada non solo l'opinione pubblica mi riferisco anche al percepito che se ne ha tra le forze dell'ordine la magistratura perché spesso se no non accadrebbe che alcune manifestazioni vengano derubricate a libera espressione del pensiero e io nel 2017 in due parole raccontai di questa spiaggia di Chioggia se qualcuno di voi ricorda il caso una spiaggia un lido uno stabilimento balneare a Chioggia dove il titolare aveva arredato questo lido con cartelli inneggianti al fascismo i busti di Mussolini i saluti romani gli slogan del ventennio addirittura pensate un po' vicino alle docce vicino alle docce il cartello qui camere a gas ovviamente vicino alla doccia che non era una doccia normale era un nebulizzatore io vado là avevo avuto una buona soffiata in quel caso da una fonte e vedo questo lido faccio delle fotografie documento esco con un'inchiesta dove racconto di questo lido Punta Canna Chioggia arredato come nel ventennio peggio forse io racconto del ritorno delle colonie fasciste oggi figli delle famiglie italiane povere semplifico per capirci vengono mandati in colonia dai gruppi fascisti da forza nuova ma dice ma no ma hai bevuto ti droghi hai preso un'insolazione no le colonie estive tornano esattamente come accadeva durante il fascismo e a questi bambini non viene insegnato soltanto l'alza bandiera la maina bandiera vengono insegnati i canti per esempio di ex terroristi neri Massimo Morsello ex nuclei armati rivoluzionari co fondatore di forza nuova ai bambini di 4 6 8 11 anni in colonia insegnano a memoria le canzoni di un terrorista nero fascista plurilatitante all'estero e le insegnano come se fossero le poesie a scuola non è fantascienza in realtà allora Punta Canna la spiaggia chioggia scusate il salto il salto temporale e anche geografico vedo questa cosa scatto fotografie e poi mi dicono attento perché questo qui alle 5 del pomeriggio inizia con dei comizi in spiaggia davanti a centinaia di bagnanti clienti suoi che pagano pagano il lettino pagano l'asdraio pagano il po quel giorno era luglio c'era anche mia figlia con me l'avevo portata per confondermi c'erano 600 bagnanti in quel lido 600 lettini tutti venduti e questo signore effettivamente inizia col comizio inizia a dire che non potendo applicare il regime fuori da casa sua cioè in Italia sostanzialmente il fascista Gianni Scarpa si chiamava si chiama così applica il regime totale a casa sua cioè nel suo stabilimento balneare qui si vive in regime totale aggiunge poi che lui sterminerebbe cioè farebbe fuori tutti i tossici così vuole uccidere i tossici racconterà che poi lì un tempo in una zona di nessuno dove andavano senza tetto sbandati i tossicodipendenti non oso immaginare con quali modalità Gianni Scarpa bonifica la spiaggia di sottomarina di Chioggia ma tant'è di fronte a 600 persone mute qualcuno rideva qualcun altro diceva grande Gianni quindi abituati a sentire questa musica questo comizio di questo signore che inneggiava il regime esco con l'inchiesta su Repubblica il caso diventa giudiziario anche politico un politico si affretta arrivare in spiaggia ad abbracciare il gestore di quel lido vi lascio indovinare chi era il politico in camicia bianca l'abbiamo già citato in questa chiacchierata abbraccia Scarpa e dice all'agenzie attenzione scusate l'inglesismo Repubblica non rompa siamo in fascia protetta giusto non ci sono minori più o meno Repubblica non rompa i coglioni ai commercianti io col mio lavoro avevo rotto i coglioni a un commerciante che inneggiava il regime e attaccava i cartelli con scritto camere a gas questo cade a Chioggia nel 2017 erano i giorni in cui la legge Fiano approdava in Parlamento poi di fatto non diventerà mai legge la legge Fiano che mirava a punire la propaganda fascista quindi anche come dire i gadget li vendono purtroppo ancora in supermercati le bottiglie con la faccia di Mussolini di Hitler i Manganelli con scritto Dux eccetera eccetera non diventerà mai legge la legge Fiano il caso diventa politico sinistra contro destra eccetera eccetera e diventa anche giudiziario per fortuna la Digos si presenta in spiaggia sequestrano i cartelli sequestrano i manifesti obbligano questo signore a togliere a rimuovere tutto lo indagano per apologia di fascismo legge Scelba 1952 una delle due leggi insieme alla legge Mancino che contrasta le derive fasciste e l'istigazione l'odio razziale etico-religioso in Italia la Mancino gliela condonano cioè la roba del sterminiamo i tossici che secondo me un po' di Mancino ci stava lì gliela condonano gli danno solo la scelpa indagato passano passa un mese che succede tu non te lo ricordi perché stavi studiando a Sarpi eri eri 2017 succede che la procura archivia caso archiviato perché caso archiviato perché Gianni Scarpa inneggiando il regime totale dicendo che lì si deve vivere in regime Mussolini saluti romani le camere a gas i manganelli c'era un cartello scritto manganello sui denti aveva semplicemente espresso il suo libero pensiero articolo 21 della costituzione perché ho raccontato questo episodio perché ci aiuta a capire il perché tu parlavi in altri paesi c'è un'azione anche della magistratura molto più efficace molto più determinata perché in Italia c'è questo io non voglio usare parole forti non è lassismo ma è semplicemente dal mio punto di vista disattenzione per qualcuno a volte la disattenzione scivola nella connivenza ma io ho un profondo e totale rispetto non solo della magistratura ma anche delle forze dell'ordine eccetera eccetera non lo dico perché vivo sotto scorta eccetera ma c'è semplicemente da un punto di vista culturale un deficit c'è un buco nero non scegliamo un altro colore ho sbagliato il colore per cui da un punto di vista culturale noi non percepiamo che che ci siano che siano tornati i fascisti in Italia o meglio che non se ne siano mai andati questo accade pensate un po' nel paese che il fascismo lo ha generato l'Italia è il paese dove è nato il fascismo ma è anche il paese che ha saputo sconfiggerlo per fortuna il fascismo ed è il paese che nasce grazie alla liberazione dalla dittatura fascista e dall'occupazione nazista che per paradosso ed è un paradosso secondo me grande come una casa una contraddizione in termini nel 2021 e cioè nel ventennio del terzo millennio derubrica questi fenomeni a qualcosa di residuale ma sì ma sono vecchi nostalgici vanno là a fare le loro pagliacciate no vuol dire che non c'è capito niente e questo vale per chi dovrebbe intervenire dice le leggi e le leggi ci sono le leggi ci sono vuoi implementarle implementiamole fanno fatica a mettere a provare il DDL ZAN figuratevi una legge che voglia irrobustire il pacchetto legislativo contro le derive e la propaganda fascista ma le leggi ci sono il problema è che sono pochissimo applicate la legge Shell Bellamancino sono due tra le leggi più disapplicate del nostro ordinamento giudiziario e allora vuol dire che qualche problema ce l'abbiamo e lì ci dobbiamo interrogare e allora ognuno non è il suo l'informazione stimola le associazioni di massa cercano di fare da pungolo insomma da stare qualche partito insomma ancora ogni tanto batte un colpo ma insomma sempre meno che facciamo che facciamo aspettiamo un altro Luca Traini aspettiamo che che arrivi un Andreas Breivik che un giorno decide di sterminare qualcuno in nome dell'odio razziale aspettiamo che le politiche del lasciare indietro qualcuno o del chiudiamo i porti o del lasciamo che anneghino diventino qualcosa di più concreto e di più fisico io direi che forse è meglio muoversi prima allora io ho ancora due domande la prima prometto che sono più breve nelle risposte no 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 ma andava benissimo così infatti la prima non so nemmeno se abbia più senso farla perché era il tema della serata cioè la democrazia pesa un filo direi che forse avrei dovuto farla per prima adesso dopo tutto l'incontro penso che la risposta sia abbastanza scontata allora la sostituisco in corso d'opera e ti chiedo a livello proprio istituzionale cosa si rischia prima di prima di chiudere con l'ultima domanda quella di quella di repertorio cosa si rischia a livello istituzionale cosa rischia la democrazia appurato che ha peso un filo e che si sta sfilacciando dove rischiamo di essere colpiti dove è più probabile che si crolli prima o poi quindi dove bisogna cercare di rafforzare diciamo di serrare i ranghi allora riporto le lancette del tempo indietro di qualche mese 6 gennaio 2021 Washington Capitol Hill nel cuore della più grande democrazia del mondo l'ex l'ormai ex presidente degli Stati Uniti d'America non accettando l'idea di aver perso le elezioni scatena il suo popolo davanti alla sede del Parlamento americano in un luogo che chiunque diciamo nell'immaginario collettivo associavamo ad un luogo inviolabile impenetrabile perché protetto da mille scudi non solo fisici ma anche spaziali lì troviamo migliaia di persone molte delle quali armate che assaltano il Parlamento americano c'erano ovviamente anche dei neonazisti c'erano i proud boys americani assaltano il Parlamento perché perché nella narrazione dell'ex presidente degli Stati Uniti d'America la realtà veniva talmente deformata da diventare una nuova realtà che non corrispondeva più alla realtà reale scusate il gioco di parole ma è perché cioè Donald Trump le cui politiche diciamo basate su una visione non solo maschilista della società ma una visione come dicevamo prima basata sulle divisioni sulle profonde sui solchi profondi tra tra le persone quindi sostanzialmente una visione della società razzista andavano avanti da anni qualcuno se ne era accorto le abbiamo raccontate ma mai avremmo immaginato che Trump avrebbe potuto raggiungere quel livello cioè scatenare sostanzialmente comunque favorire favorire una rivolta di quel tipo è successo questo questo fatto che è stato dal mio punto di vista un fatto non soltanto mio un fatto epocale epocale perché ha messo tutti noi di fronte tutti noi europei di fronte a una situazione che credevamo non potesse mai avvenire ma che è avvenuta ed è avvenuta proprio lì allora i focolai ecco perché ho parlato di nazionalpopulismo perché quello di Trump è stato è stata diciamo la massima espressione del nazionalpopulismo se ci pensate adesso non voglio tediarvi ricordando facendo il ripasto di quello che fu ma i fuochi grandi e piccoli di nazionalpopulismo che si sono accesi in questi anni non soltanto gli Stati Uniti d'America ma in Russia in Turchia in Budapest a Varsavia e le cui diciamo le cui la cui brace è calda anche da noi ok questo nazionalpopulismo ci ha messo di fronte a a un qualcosa che non avremmo mai immaginato e che è estremamente pericoloso cioè ci ha messo di fronte al fatto che anche quando meno ce lo aspettiamo c'è chi è in grado di deformare la realtà il racconto della realtà persino l'esito di elezioni di elezioni liberamente avvenute e poi avvenute insomma con tutti i crismi irregolari alla faccia delle denunce e delle cause intentate da Donald Trump questa cosa ci ha messo di fronte al fatto che viviamo nell'era della post verità cioè viviamo nell'era in cui la verità non è quella che appare a noi a noi che pensiamo di essere dotati di logica di buon senso di ragionamenti conseguenti l'era della post verità prevede che tu tu Donald Trump tu Sebastiano tu Paolo alla bisogna alla bisogna in un determinato momento in cui hai la necessità di deformarla la realtà riesci a trasformarla e la verità sarà quella che tu venderai alla tua platea ai tuoi interlocutori al tuo popolo ai tuoi elettori questo ha fatto Donald Trump e questo e qui sta il pericolo il pericolo vero allora tu mi chiedi qual è il pericolo per noi per noi in Italia io credo che se guardiamo la scansione temporale di quello che è avvenuto in politica negli ultimi anni in Italia e davvero io qui lo dico cercando di tenere la distanza del cronista al di là delle idee mie ovviamente ognuno di noi le ha sono intuibili quali sono le mie idee mi accusano di essere un antifascista militante lo dico per me non è un'offesa anzi credo che professare praticare l'antifascismo soprattutto oggi non solo non sia nulla di 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 disconveniente ma sia un dovere civile per tutti noi a prescindere dai mestieri che facciamo e ognuno nel proprio ruolo cioè praticare l'antifascismo è un esercizio democratico e dettato dalla costituzione quanto mai necessario dal mio punto di vista se guardiamo la scansione cronologica tu ti accorgi che negli ultimi anni c'è stato un escalation nel linguaggio nella propaganda politica nelle modalità con cui i leader politici italiani hanno veicolato le loro proposte che in molti casi non erano proposte atte a creare un clima di convivenza civile di 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 armonia ma erano proposte divisive basate sulla speculazione pura della paura dell'odio della rabbia dell'incertezza è chiaro che è facile andare a rivolgersi alla pancia della gente quando la gente è in sofferenza quando è in una posizione di debolezza quando sente o crede che possano venire meno le piccole certezze acquisite lo dicevamo prima lì è facile e lì vinci facile perché il ragionamento non è non è non prevede un filo lungo il ragionamento è accorciato si va per slogan si va per abbreviazioni si va per questi odiosi non so come pensiate voi ma questi questi odiosi queste immagini odiose che ormai sono diventate di uso comune non soltanto tra i politici dove si fanno dei manifesti veicolati poi su facebook instagram eccetera con come se fossero delle locandine che cristallizzano una situazione cioè ho visto cose incredibili cioè personaggi dello spettacolo utilizzati da leader politici anche in questi giorni o ex personaggi dello spettacolo messi lì con sotto la frase pronunciata come se l'avesse detta gandhi o martin luther king o che ne so o madre teresa di calcutta cioè delle cose incredibili la comunicazione oggi è diventata pericolosa spesso rischia di andare fuori controllo e questo è un rischio ma questo è l'anticamera di quello che è il vero rischio il vero rischio è che questa escalation che io nel mio piccolo ho provato provo a raccontare ogni giorno con il mio mestiere possa portarci non a una dittatura io mi sento di poter escludere che in Italia tornino i fantasmi del passato e che questi fantasmi prendano corpo i fantasmi alleggiano ma che prendano corpo e che torni no si dice la storia non si ripete mai uguale a se stessa se non sotto forma di farsa non è sempre così ma io sento di poter dire che in Italia grazie al sacrificio di chi ha dedicato la propria vita per darci la libertà e per liberarci dall'orrore nazifascista il nostro sistema democratico sia sufficientemente solido e puntellato sebbene corra oggi su un filo un po' sfilacciato per poter dire che non tornerà un regime può tornare dell'altro però può tornare una deriva che tende a quelle forme di governo che iniziano ad essere meno democrazie non dittature ma nemmeno più democrazie compiute quindi quelle che con una crasi abbiamo definito democrature io credo che il rischio vero sia questo cioè che progressivamente senza quasi che ce ne accorgiamo perché poi la vera fregatura è questa che le cose accadono e tu non te ne stai accorgendo e quando sono successe è troppo tardi e dici ma come mi ha sfuggito qualcosa il rischio che l'architettura democratica che come dicevo prima è un'architettura umana e che come tale necessita di una cura continua di manutenzione continua il rischio che quell'architettura lì venga mano a mano picconata colpo su colpo a forza di dire che le regole anti covid non servono noi siamo liberi di autodeterminarci sono libero in quanto liberato che è uno è un ragionamento che spesso sottende la propaganda dei novax ed è no mask sono libero perché sono liberato ma liberato da cosa beh ma facile dai lacci della democrazia dalle briglie di quelli che vogliono tenerci in casa la sera che non vogliono farci uscire come se qualcuno godesse a non farci andare in vacanza in Grecia o in Croazia o in Spagna nessuno ci gode non c'è una dittatura sanitaria c'è una pandemia mondiale di fronte alla quale ogni governo come può con le armi di cui è in possesso cerca di difendere i propri cittadini allora il rischio qual è? quello che il populismo il nazional populismo arrivi ad assumere forme talmente elevate talmente spinte per cui il cittadino inizia a dire che si può fare anche a meno dell'architettura democratica noi abbiamo sentito dire e non erano quelli di Forza Nuova di Casa Pound non era manco Salvini non era manco la Meloni erano il movimento 5 Stelle i cui i cui leader di primo piano dissero tempo fa che del Parlamento si potrebbe tranquillamente fare a meno l'hanno detto i 5 Stelle e siccome anche questa cosa la disse qualcun altro in passato e anche lì non andò a finire benissimo io di fronte a quella frase lì non rimasi proprio impassibile perché c'è populismo e populismo i populismi in generale sono pericolosi di loro perché sai dove inizi ma non sai dove finisci allora il rischio è vero che qualcuno colpo su colpo smantelli questo impianto e questa architettura democratica finché magari salta fuori chi dice attenzione allora adesso siamo in piena crisi non c'è più il lavoro non c'è più la garanzia sanitaria l'economia è saltata la guerra tra gli ultimi e i penultimi che è insomma l'abbiamo vista in questi anni nelle periferie romane non soltanto lì i penultimi cioè gli italiani poveri anche qui semplifico per capirci che se la prendono con gli ultimi cioè con gli immigrati c'è chi lavora per unire gli ultimi e i penultimi con il reciproco che è difficoltà complessità soprattutto nelle zone dove vivere è più difficile c'è chi lavora per allontanare gli ultimi dei penultimi mettendogli gli uni contro gli altri questo ha fatto l'estrema destra in questi anni questo hanno fatto i partiti sovranisti in questi anni soffiando sul fuoco e strizzando l'occhio alle bande nere ai picchiatori di Forza Nuova quelli che andavano a calpestare i panini che la chiesa portava ai bambini figli di profughi arrivati in 4-5 non in 400 o in 20.000 come a Bari nel 90 sbarcati da una nave erano 4-5 su un van madre padre figlio arrivavano nella borgata romana per accedere ad un alloggio popolare legittimamente assegnato a loro e c'erano i fascisti di Forza Nuova che calpestavano i panini a terra facendo i saluti ai romani ecco il rischio vero è questo è quello che senza accorgere ci troviamo in un sistema che è ancora democrazia ma è un po' meno democrazia di fronte a questo rischio credo dobbiamo tenere le antenne molto molto attive guardarci intorno non far finta di niente la complicità a volte e l'indifferenza sono peggio dell'odio anche questo mi piace dirlo citarlo l'ho detto Liliana Segre che ha provato sulla sua pelle l'odio l'odio vero la segregazione cioè la segregazione di cui parlano i fascisti del terzo millennio di Casa Pound Liliana Segre l'ha provata sulla sua pelle con dei numeri marchiati a fuoco da bambina nel campo di concentramento di Auschwitz a cui è sopravvissuta e Liliana Segre dice più dell'odio temo l'indifferenza delle persone che in qualunque campo tu operi se non guardi in faccia il fenomeno il problema che vuoi risolvere puoi anche non partire puoi ritirarti subito quindi guardare in faccia il problema capirlo studiarlo analizzarlo studiare studiare approfondire chi ci dice che gli intellettuali sono degli sfigati sono scollati dalla realtà non sanno cosa vuol dire vivere cioè questo continuo livellamento verso il basso che è stata poi la forza vera la chiave del successo dei nazionalpopulismi che ti hanno detto non ascoltare chi ha studiato non ascoltare chi si occupa di neofascismo di aggregazione giovanile perché sono degli sfigati abbiamo assistito in questi anni a delle uscite beluine nei confronti di persone di fronte alle quali ci sarebbe da togliersi cappelli e capelli una è Liliana Segre che non fu accolta esattamente allo stesso modo all'interno del Parlamento quando si presentò c'è chi non si alzò in piedi il rispetto dovuto a una signora anziana con quella storia imporrebbe a chiunque anche il più distante dalle sue idee e dalla sua storia di alzarsi in piedi in molti non l'hanno fatto e cito un esempio per tutti la consapevolezza di poter giocare un ruolo il primo ruolo il ruolo prevede innanzitutto la conoscenza l'informazione non lo dico solo perché faccio questo mestiere l'informazione è fondamentale ed è uno dei vaccini più importanti contro l'odio uno di quelli che funzionano di più cioè informarsi e informare aiuta a contrastare i fenomeni d'odio aiuta a contrastare il linguaggio violento aiuta a capire che la parola è importante perché la parola poi subisce dei cambiamenti diventa assume uno stato diverso meno gassoso e più solido e la parola diventa un'arma diventa un'arma a volte anche mortale quanti casi abbiamo raccontato in questo anno in questi due anni suicidi indotti ragazzi allontanati dalle famiglie soltanto perché magari uno faceva coming out e diceva al padre e alla madre sì sono maschio mi piacciono i maschi mamma e poi però magari o al contrario una femminuccia cacciata di casa e quindi la consapevolezza e l'informazione l'informazione è un antidoto fondamentale e poi la partecipazione la partecipazione noi abbiamo perso di vista in questo anno e mezzo dobbiamo assolverci anche in parte perché non potevamo incontrarci non potevamo trovarci ci era vietato rischiavamo di contagiarci l'un l'altro se ci trovavamo una sera a parlare di x y tornare sentire forte il tempo della partecipazione cioè noi viviamo in un tempo dove l'individualismo lo spazio singolo il piccolo orticello la difesa della propria bolla siamo entrati un po' tutti in una nostra bolla personale dove sembra quasi che tutto ciò che è fuori da quella bolla e non parlo soltanto di individualismo spinto insomma noi sono bergamasco conosco l'operosità della nostra gente conosco anche l'attaccamento alla produttività e quindi a quello che dalla produttività deriva e quindi i soldi fa solo i soldi fa solo i soldi questa pandemia ci ha messo a nudo ci ha spogliato completamente ci ha fatto comprendere che nella nostra scala valoriale dove avevamo messo delle cose forse c'è stato un rimescolamento di quei valori lì e ci ha fatto capire che forse anche davvero l'aspetto materiale so che è banale quello che sto dicendo ma è molto vero l'aspetto materiale è sceso non in tutti ovviamente perché c'è chi se ne è beatamente sbattuto le scatole ed è andato avanti a pensare esattamente come era prima ma c'è chi oggi è cittadino più consapevole e ha capito che prima delle cose materiali conta l'aiuto l'aiuto essere vicini fare rete nessuno si salva da solo lo hanno detto dei medici lo hanno detto dei letterati lo dico umilmente anch'io da cronista di strada la pandemia ci ha insegnato che nessuno si salva da solo mi salvo se aiuto a salvarsi quell'altro se mi metto la mascherina rispetto chi magari non sia ancora vaccinato o ha fatto solo la prima dose quindi riscoprire la partecipazione uscire dal tempo dell'egoismo dell'individualismo dello spazio corto allargare i confini e allargare i confini cosa significa chiudo significa abbracciare anche quelli che riteniamo essere diversi da noi cioè il valore vero il valore aggiunto vero sta nella diversità e non lo dico io non faccio politica non ho bisogno non devo tirar su dei voti lo dico perché lo penso veramente se tu ti confronti con uno che ha le tue stesse idee la tua stessa storia che vive nel tuo stesso ambiente sociale che ha fatto già io ti abbiamo la scuola in comune liceo in comune è già troppo per i miei gusti ma che cosa mai quale sarà mai la crescita che avrai ma sarà pari a zero ma è molto più affascinante ed è molto più arricchente confrontarsi con chi viene da un'altra terra che ha altri usi altri costumi un'altra cultura una storia familiare non diversa dalla tua quindi capire che viviamo nel tempo della contaminazione della globalizzazione qui intesa nella sua accezione più nobile non in quella che fa arricchire le multinazionali e lascia indietro chi produce lavora la terra e si piglia le briciole io feci inchieste anni fa sulla produzione della cocaina che è un genere di consumo ad alta ad alta richiesta purtroppo in Europa nelle nostre città nei nostri paesi e andai in Colombia a raccontare i laboratori dove si produceva la cocaina e raccontai le storie non soltanto poi la filiera prevede ovviamente i passaggi quindi i narcotrafficanti quindi il passaggio dal Sud America all'Europa i broker quelli che stoccano tonnellate di cocaina ma raccontai le storie dei contadini di quelli che si ammalavano di tumori alle mani alla pelle perché loro le loro mogli le loro sorelle i loro figli stavano tutti i giorni con le mani in mezzo alle foglie di coca la benzina la calce viva tutta roba tossica ovviamente si ammalavano per che cosa? per delle briciole per le briciole allora globalizzazione inteso come dimensione mondo dimensione culture diverse le chiusure cioè questi due anni ci hanno insegnato che le chiusure non ci hanno portato nulla di buono nelle chiusure diciamo nelle nostre case sì per fortuna ma nelle chiusure nostre umane nelle chiusure dei porti hanno portato conflitti tensioni razzismo rabbia rabbia aumentata e il covid perché il covid è la metafora perfetta chiudo con questa perché dicono il covid accelera e così accelera le patologie che tu hai nel tuo corpo cioè chi a Nembro ad Alzano ad Albino a Bergamo se ne è andato i primi ad andarsene sono stati quelli che avevano già patologie pregresse io penso che il covid abbia accelerato anche le patologie che stanno nel corpo della nostra società non soltanto nel nostro corpo cioè ha tirato fuori il peggio del corpo della società e li abbiamo visti li vediamo ancora oggi cioè se voi guardate twitter in tendenza da giorni ci sono i novax ieri un parlamentare della lega una roba orribile ha detto ma perché non chiedete a un LGBT se ha l'AIDS e se sta facendo la profilassi per l'AIDS una cosa vomitevole vomitevole manco medievale perché nel medioevo secondo me manco nel medioevo posto che non c'era l'AIDS questo è il tempo che stiamo vivendo questo è il linguaggio che stiamo vivendo che è un linguaggio razzista violento allora covid ha accelerato le patologie della società proviamo a uscire speriamo di uscire da questa cosa io credo che la consapevolezza sia il terreno su cui lavorare e quindi sentirci meno soli perché parte di un gruppo parte di una collettività parte di una comunità riscoprire quei valori la piazza bellissima di questa sera le cose bellissime che fate lo dico non per spirito di ospitalità riscoprire questo valore la condivisione la rete la fratellanza l'aiuto la solidarietà da lì si esce se ci chiudiamo non se ne esce e non ne usciremo allora noi abbiamo chiuso ringrazio tantissimo Paolo Berizzi per essere stato qua prima del giro sul bruco prima del giro sul bruco non so che ora sia non ho tenuto il tempo probabilmente siamo andati molto fuori tempo probabilmente l'area del preobiettivo però se avete delle domande da fare siamo qui siamo pronti lui è pronto io no però è pronto domanda che per te no io non ho molto a dire in realtà cioè io non vedo assolutamente nulla qui prego vuole il microfono vai prima parlava giustamente sui ragazzi dove il mio fascismo la faccia è sui ragazzi e sui ragazzi in generale mi diceva dall'altra parte non c'è più qualcosa che faccia prego una domanda che rischia di aprire un'altra serata quando abbiamo perso questo a fine che avevamo sui ragazzi quando e come e perché ti rispondo cavalcando la strettissima attualità dal mio punto di vista c'è una data bravissimo c'è una data a partire dalla quale un'intera generazione si è scollata o allontanata dalla cosa pubblica la dico insomma so che mi capisci cioè il G8 l'anniversario il ventennale il G8 di Genova il G8 di Genova al di là di quello che è accaduto prima abbiamo fatto un rapido accenno adesso non ci torniamo perché poi è tardi quindi sarò veramente rapido e rischio di non fare il giro sul bruco che però vedo che sono già smontando quindi mi hai tirato una sola Sebastiano che è disgraziato tutti i sarpini siete veramente una cosa il G8 ha ha svuotato le speranze di molti ha svuotato l'impegno di molti perché molti hanno smesso di credere nelle istituzioni hanno smesso di credere nel potenziale che quelle giornate avevano prima che diciamo degradassero in fatti violenti e poi insomma in quello che successe a scuola Diaz e alla caserma di Bolzaneto quella generazione lì secondo me l'abbiamo persa vent'anni fa e non si è più ripresa quando si dice che il G8 è una ferita ancora aperta non ti riferisci soltanto ai processi all'impunità di qualcuno a delle promozioni scandalose di altri ci si riferisce alla ferita che è stata dal mio punto di vista più profonda cioè quella che sui ventenni di allora che sono quarantenni oggi ha lasciato un solco profondo che non si è più rimarginato perché quella generazione tu l'hai persa e il G8 si è mangiato per paradosso vengo a bomba come si dice si è mangiato anche quelle realtà banalizzo per semplificare per capirci i centri sociali che possono piacere non piacere per carità se tu ci pensi negli ultimi anni centri sociali anche importanti che prima avevano avevano erano nomi che insomma conosciuti a livello nazionale mano a mano hanno perso hanno iniziato a fare meno cose hanno iniziato a fare passi di lato hanno iniziato a smantellare a tirare un po' il rim in barca un determinato movimentismo anche dalla sinistra giovanile inizio a cogliere qualche qualche segnale di insomma interessante ma in questi anni quel movimentismo lì che in qualche modo sui temi dell'ambiente del clima della pace della giustizia dell'economia giusta della giustizia giusta avevano investito hanno disinvestito allora il G8 si è portato via tanto e al di là del massacro ignobile fascista che è stato fatto nei confronti di questi giovani e al di là del fatto che dei gruppi organizzati i black bloc hanno messo a ferro fuoco la città peraltro sono stati quelli di cui purtroppo le forze dell'ordine si sono meno occupati io ho visto l'altro ho rivisto ieri ve lo consiglio una ricostruzione straordinaria di Davide Ferrario che è un regista peraltro di origini anche bergamasche che si intitola Le strade di Genova che ripercorre le ore dei black bloc in quei giorni e vedi che i black bloc agiscono in modo quasi impunito sfasciando vetrine spostandosi a macchia da una zona all'altra della città e poi però la macelleria messicana la cosiddetta coinvolge le tute bianche e diciamo i cosiddetti buoni che in qualche modo erano stati allora questo è un pezzo importante l'altro pezzo è venuto gradualmente in questi anni cioè io penso qui la dico anche in modo provocatorio i pacchi alimentari di cui abbiamo parlato prima cioè il successo sul territorio non nella cabina elettorale nella gabina elettorale con la G come diceva Umberto Bossi quando la Lega era ancora antifascista qualche giro fa il peso il successo dei gruppi neofascisti Casapan Forza Nuova non lo misuri nella cabina elettorale lo misuri sul territorio cioè nella capacità che hanno di organizzare fare cose sul territorio di costruire consenso nel quartiere nella borgata nella periferia cioè nei luoghi dove è più difficile vivere i pacchi alimentari che i neofascisti distribuiscono alle famiglie povere qualche mese fa fuori dalla sede di Casapan da Roma c'era una fila di 800 metri con famiglie che aspettavano la busta della spesa gratis qualche anno fa ripeto lo dico in modo provocatorio gli aiuti alimentari li portava alla sinistra li portava spesso la chiesa non è che non lo fanno più lo fanno meno e quando tu inizi a far meno una cosa lo spazio dove quella roba lì la facevi inizia a essere uno spazio un po' vuoto e quando uno spazio diventa vuoto c'è qualcuno che lo occupa perché ha interesse a occuparlo ci mette sopra il cappello e dice qui sono arrivato io e oggi ci sono io non c'è la chiesa però non è un atto d'accusa la chiesa cioè avercene Milano ma oggi ci siamo noi oggi ci sono i fascisti io l'ho chiamato il welfare nero nei miei lavori cioè questa forma di assistenzialismo di strada dove tu vai a sostituire lo Stato o le associazioni che in qualche modo collaboravano con lo Stato che hanno smesso di venire o vengono meno o arrivano in ritardo allora lo Stato arriva in ritardo cosa fanno arrivano i fascisti queste sono modalità esattamente uguali a quelle che usa la mafia nei territori che controlla cioè le modalità di occupazione del territorio dove dice non hai lavoro vieni da me il capo bastone a Palermo a Catania nella piana di Gioia Tauro ti hanno rubato la macchina facciamo il cavallo di ritorno non andare a denunciare vieni da me non hai casa ci penso io l'alloggio te lo trovo io questa forma di assistenzialismo che è tipica della mafia e che serve per controllare il territorio negli ultimi anni non la usa più soltanto la mafia la usano anche i fascisti la usa l'estrema destra la usano quelli che poi portano acqua a quei partiti che fanno della diseguaglianza della diversità della distanza tra esseri umani la cifra della loro azione politica questo è accaduto come recuperare terreno è molto semplice andando nei posti cioè andando a fare le cose nei posti io trovo intollerabile che ci siano d'estate sul litorale laziale dei gruppi di neofascisti di Casa Pound che con la pettorina rossa cacciano dalla spiaggia i venditori ambulanti ovviamente sempre solo stranieri perché se sono italiani ci piacciono se sono stranieri no e li cacciano dalla spiaggia ma è una cosa illegale che non può fare nessuno solo le forze dell'ordine possono allontanare qualcuno da un luogo pubblico e tu hai le ronde che diciamo nel 2007 facevano i leghisti anche da queste parti o in Veneto oggi le ronde le fanno i fascisti le fa Forza Nuova le fa Casa Pound le fanno quelli di Lealtà Azione il Veneto fronte Schined illegali perché non si possono fare men che meno con dei simboli di partito o di associazioni sindacali eccetera le fanno loro si sostituiscono le forze dell'ordine io con i carabinieri della mia scorta ne abbiamo parlato non esiste che un cittadino si erga a paladino della giustizia o che si faccia giustizia da solo giustizia sommaria il far west e torniamo ai casi di strettissima attualità di qualcuno che gira con le pistole non esiste allora non lasciare spazi vuoti è fondamentale torna a recuperare quegli spazi e poi magari il fenomeno si assorbe mi scuso tantissimo avevamo promesso le domande ma dalla regia mi fanno segno che è ultra 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 tardi quindi consegniamo a Paolo Berizzi una piccola rappresentanza di migliori bellissima grazie bella la borsa dovrebbe esserci dentro non sono preparato no scherzo c'è una borsa dovrebbe esserci all'interno una maglietta e il libro di foto che è stato preghiera per Nembro esatto meraviglioso da Marco 40 esatto grazie grazie di cuore bellissimo grazie a lei grazie a te per venerdì non ci sono le prenotazioni come qualcuno ci ha fatto notare sul sito perché le sedie non sono a prenotare ma se volete c'è la possibilità di prenotare la cena da Gerim e speriamo di vedervi anche venerdì speriamo vi sia piaciuto questo incontro e anche gli altri magari l'anno prossimo ci rivediamo vi abbiamo fatto fare tardissimo grazie ci vediamo grazie a tutti dalla pazienza grazie a tutti grazie a tutti